La compagna del presidente della FIGC Gabriele Gravina, Francisca Ibarra, avrebbe pubblicato una storia Instagram compromettente. C'è uno screenshot che circola su Twitter che mostra infatti il nome dell'account Ibarra.Fransisca con un'immagine pubblicata sette minuti prima nelle storie del logo della Juventus rivisitato alla luce dei 15 punti di penalizzazione. Si tratta chiaramente di ironia, di satira, una cosa scherzosa, anche se naturalmente la compagna del presidente della FIGC cose simili non dovrebbe condividerle. Ma il punto è che molto probabilmente si tratta soltanto di un fake, perché tra l'altro il nome dell'account Ibarra-Fransisca non si sovrappone all'immagine di questo logo modificato della Juventus. Quindi è facile che sia stata screenshotata un'altra storia di Francisca Ibarra con un'immagine a sfondo chiaro e sia stata appiccicata sopra quella del logo della Juve. E quindi se vengono creati dei post fake per alimentare sospetti, pensate come siamo messi oggi nella tifoseria della Juventus.